eccoci allora diretta si partita gira la rotellina ecco adesso la rotellina smesso di girare ciao a tutti a chi è in diretta mettiamo la solita musica di apertura così nel frattempo scaldiamo un po quest'atmosfera un po tesa che c'è in questi giorni e condivido il link sulla mia pagina musica musichetta vieni a me allora eccola allora io ci sono allora adesso arrivo condividiamo sul mio profilo ciao amici sono in diretta adesso su questa pagina la condivisione del link è un rito ce l'ho fatta ad autocondividermi olè ci siamo ci siamo fuori c'è ancora una bella luce una bellissima giornata a quest'ora saremo in pochi ma non importa a noi ci piace la qualità più che la quantità 18 e 0 5 30 secondi e cominciamo allora questa volta con i commenti non mi fregate questa volta li vedo olè fermiamo qui perfetto musica esci allora apriamo tutta la pagina eccoci eccoci allora quanti siamo due c'è uno online poi ci sono anch'io poi se qualcun altro vorrà unirsi mi farà piacere questa è una diretta che poi resterà sulla pagina se poi le persone che sono online mi ah no aspetta dubbio dubbio atroce ma il numero che vedo online è comprensivo di me ah la Ilaria c'è allora eri tu Ilaria ciao cara buonasera ecco ecco qui un argomento leggero perché stasera si parla dei canali intuitivi leggero perché caspita non so se è una mia impressione però insomma in questi giorni l'atmosfera sta diventando pesante per tutto quello che sta capitando per le prospettive di chiusura di restrizioni eccetera e e quindi apro questa diretta parlando parlando della paura parlando della paura perché poi c'è una connessione anche con l'intuizione poesia estiva ciao che bello allora non sono l'unica a stare a casa sabato alle 18 e come come va ragazzi voi la sentite un po' di tensione nell'aria io sono sono abbastanza centrata e focalizzata però riconosco che ci sono delle agitazioni nelle persone che ho intorno nel mondo che ho intorno e poi devo dire ieri ho aperto il notiziario per 20 secondi non sono arrivata a 30 mi sono stata proprio inondata da sensazioni molto molto sgradevoli c'è un campo mentale di paura di stress di tensione di illazioni di di prospettive chiuse proprio che circonda i notiziari e inevitabilmente raggiunge raggiunge le persone rosanna ciao ben arrivata allora dicevo voglio fare una diretta leggera però poi ho iniziato parlando della paura e sì parliamo della paura in apertura perché perché qua funziona così l'intuizione se hai paura non ti connetti all'intuizione oppure l'intuizione funziona molto male quindi un minimo inevitabilmente questo argomento dobbiamo sfiorarlo e allora poesia oggi sono a casa ma settimana scorsa ti ho ascoltato mentre ero fuori grande non me la perdevo la diretta grazie wow mi fa piacere well it hello welcome siamo qui è un mio caro amico inglese che però segue seguirà in italiano questa diretta io adesso non voglio sindacare sul fatto che sia giusto o meno preoccuparsi allarmarsi per il coronavirus o per le conseguenze della gestione del coronavirus una cosa la so di certo che quando si ha paura che la paura non serve a niente che quando si ha paura tutte quelle che possono essere le intuizioni le la creatività il pensiero di una soluzione tutto questo viene bloccato e io mi chiedo perché si sta facendo così tanto leva sulla paura perché si poteva comunque si potevano affrontare delle restrizioni delle misure conteniti contenitive tutto quello che volete con un atteggiamento magari più distaccato più di buonsenso soprattutto se poi ufficialmente stiamo parlando di qualcosa che colpisce il sistema immunitario e insomma non è scienza esoterica il fatto che la paura la preoccupazione l'ansia abbattono le difese immunitarie cioè ne parlavano i libri di medicina già vent'anni fa quindi oggi leggerò dal legge adesso adesso vi leggo dal dal mio libro è una parte dedicata ai canali intuitivi però è davvero importante capire che la paura non può coesistere con l'intuizione e se la giustificazione del provare paura è che siamo preoccupati e vorremmo trovare una soluzione se davvero vogliamo trovare una via alternativa a tutto quello che sta succedendo dobbiamo renderci conto che la paura ci preclude ogni tipo di soluzione tra l'altro ci manda in reattività spegne l'intelligenza del cervello e il buonsenso e attiva la parte animale in noi quella del lotta e fuggi secondo me moltissime persone stanno agendo in base alla paura pensano di ragionare ma si costruiscono dei ragionamenti delle ansie intorno a un nucleo di paura che tipo di paura ne parlavamo stamattina anche sul mio profilo con dei commenti la paura evidentemente della malattia del contagio e quindi anche della morte che evidentemente era molto nascosta molto sotterrata e adesso tutta questa situazione la sta portando a galla e io penso che questa sia una buona cosa penso che se la nostra cultura smettesse di avere il tabù della morte potrebbe onorare meglio la vita perché in realtà quando si ha paura della morte quando la morte diventa un tabù si evita di parlarne di affrontarla eccetera in realtà in qualche maniera si arriva a rinnegare anche la vita infatti la vita del nostro sistema economico sociale è una vita che molte volte segue dei valori che non sono granché equilibrati ed è una conseguenza del fatto che non si onora la morte non si onora l'invisibile e quindi si rimane in superficie allora l'intuizione io personalmente ho avuto le più grandi intuizioni nella mia vita nei momenti di centratura come si dice non so come li chiamate voi nei momenti di ispirazione di connessione e quando invece ero presa e totalmente immersa nella paura poi magari riesco a tirarmene fuori perché mi accorgo di stare nella paura e quindi mi riporto nel centro ma nel momento in cui sono nella paura ho dimenticato di chiudere il telefono allora aereo perfetto e adesso sono con voi dicevo che nel momento in cui sono presa totalmente dalla paura non ce n'è per quanto io sappia delle cose ho degli strumenti che ho studiato ne ho avuto esperienza e quindi quando succedono delle situazioni posso, ho la conoscenza di questi strumenti e posso metterli in pratica però cosa fa la paura? ti stacca completamente il buonsenso il cervello va in tilt e passi esclusivamente nella modalità di reattività cioè hai voglia ad avere intuizioni in questo stato allora eccoci, eccoci vado a prendere voglio leggere insieme a voi adesso ci concentriamo sui canali intuitivi che è un argomento che mi piace molto perché come vedremo esistono diverse modalità attraverso cui noi possiamo ricevere le intuizioni e tutti noi abbiamo uno o più canali attraverso i quali ricevere informazioni che non sempre sono semplici informazioni deduttive ma trascendono la logica leggo direttamente dal mio libro per chi non lo sapesse ricordo che sono blogger e autrice del libro A.A.A.A. cercasi guru disperatamente e adesso vado a leggere dal capitolo proprio che si intitola i canali intuitivi appunto come stavo dicendo però però così mi spariscono i commenti allora se avete domande riflessioni non esitate mi fa piacere mi fa piacere mi piace interagire vorrei stare lì dal vivo questa cosa della diretta streaming la faccio perché è interessante e si può arrivare anche ad altre persone al di fuori del luogo fisico però sarebbe bello il massimo è vedersi dal vivo e poi magari anche trasmettere in diretta contemporaneamente per adesso per adesso abbiamo la diretta molti di noi posseggono sensi ulteriori rispetto a quelli fisici ordinari lo stavamo dicendo si tratta dei cosiddetti canali intuitivi con i quali possiamo ricevere informazioni dal mondo dell'invisibile esistono quattro canali intuitivi principali il primo credo che sia anche il più famoso tra virgolette è il canale della chiaroveggenza cosa significa chiaroveggenza letteralmente è chiarezza nel vedere allora un chiaroveggente o comunque una persona che ha una predisposizione alla chiaroveggenza perché ci sono naturalmente diversi gradi di solito riceve le informazioni i messaggi attraverso le immagini quindi in forma visiva per esempio ricorda facilmente i dettagli di una scena che visualizza visualizza facilmente ricorda i dettagli in maniera accurata di quello che vede può avere anche dei flash o delle visioni che le anticipano quanto accadrà oppure anche rivedere delle scene che sono accadute in passato che lei non ha visto in prima persona però queste informazioni visive arrivano è una sorta di intuizione che si manifesta attraverso le immagini non so se qualcuno di voi ha avuto esperienza con questa forma di comunicazione intuitiva con questa chiaroveggenza una persona che tende a essere chiaroveggente riceve le informazioni visive anche attraverso i sogni perché magari sogna una scena sogna un qualcosa che capiterà più avanti a me è successo è successo che ho sognato circa sei mesi prima che accadesse qualcosa di sì di molto brutto di molto schiacevole qualcosa che mi ha trasformato nel profondo io pensate l'ho sognato ma esattamente con tutti i dettagli sei mesi prima e poi quando mi sono svegliata perché era un periodo dove ancora non davo importanza a quello che ricevevo mi sono fatta dei ragionamenti questa mente è pazzesca è pazzesca quando deve giustificarsi le cose non sta mai zitta mi sono fatta dei ragionamenti del tipo ah sicuramente sono le mie paure che hanno creato quella scena io non capisco le persone di questa situazione sono tanto belle brave e buone perché mai avrò fatto un sogno di questo tipo e poi quando è accaduto l'ho capito era veramente la mia anima che mi stava anticipando mi stava anticipando quello che sarebbe accaduto e poi quando lo anticipa in maniera così forte di solito è perché lo possiamo evitare non tutto possiamo saltarlo non tutto possiamo evitarlo perché le esperienze fanno parte del cammino e almeno una volta tutti noi devono toccare tutti i colori attraversare tutti i pezzi del puzzle però quando come dire non è il caso di reiterare a oltranza i vissuti dolorosi spesso l'anima si attiva ci arrivano delle intuizioni e lì il vero problema è che noi le ignoriamo cioè siamo bravissimi a ignorare le nostre sensazioni se non sbaglio non ci sono ulteriori commenti non voglio fare come l'altra volta che li ho persi comunque mi farebbe prendo l'acqua prendo l'acqua allora dicevo mi farebbe piacere mi farebbe piacere se qualcuno ha avuto esperienze di questo tipo io so che molti di voi hanno esperienze diciamo collegate a percezioni sottili e che volesse far insomma se qualcuno le ha avute e volesse farmelo sapere ovviamente in un commento pubblico quindi lo leggerebbero anche gli altri comunque mi farebbe piacere siamo ancora sul canale della chiarovegenza allora una persona portata la chiarovegenza spesso può notare anche ombre o strane luci negli ambienti c'è chi proprio vede questi piccoli puntini luminosi che nelle foto sono i famosi orb insomma c'è anche chi riesce a vederli a occhio nudo oppure con la coda dell'occhio spesso vede come delle ombre delle presenze che passano ed è un accorgersi visivo ed è un accorgersi visivo un'altra caratteristica della chiarovegenza è che la persona chiarovegente fa molto caso ai simboli di ogni tipo figure geometriche che possono ripetersi simboli per esempio anche simboli sciamanici la figura di un animale oppure anche una certa sequenza di numeri mi capita spesso di vedere sulla bacheca di facebook persone che sottolineano di incontrare continuamente una certa sequenza di numeri anche questa è una mia specialità una mia specialità nel senso che io ho dei numeri che da tutta una vita mi perseguitano veramente nelle maniere più incredibili non so se anche voi avete dei numeri che incontrate spesso vi racconto ah vedi Ilaria dice leggo intanto il commento di Ilaria nei sogni ricevo spesso codici numerici da voce maschile con spiegazioni che comprendo nel sogno ma non ricordo da sveglia è una forma di chiaroveggenza c'è oddio c'è di mezzo anche la voce che ti parla e quindi qua c'è anche la chiara udienza di mezzo c'è anche la chiara udienza forse comunque la vediamo la vediamo più avanti allora io per tutta una vita ho avuto e quasi non ho più perché ho deciso ho fatto un patto con l'universo ho cambiato la sequenza numerica che mi riguarda questa è una curiosità che ho messo in azione allora sono stata per tutta una vita perseguitata dal 22 nelle forme più assurde del tipo che magari guardo un film e di colpo salta la corrente rimane a lampeggiare solo il videoregistratore sotto con il numero 22 che lampeggia oppure esco fuori di strada con la macchina e mi fermo un centimetro prima di fronte a un enorme cartello con scritto 22 cioè ma tantissimi ne ho di esempi di questo tipo poi a un certo punto ho detto perché io gioco e scherzo con l'universo caro universo però il numero 22 è facile è molto diffuso vorrei vedere se facessimo 222 2222 e così via da quel momento sono incappata nelle targhe 222 entro alla posta prendo il biglietto ovviamente mi capita il numero 222 e poi anche magari un giorno mi si è aperta una pagina su internet ed era il link finiva con una sequenza infinita di due è più difficile poi magari capire a cosa è collegato questo numero io chiaramente ho i miei significati è un numero collegato alla mia famiglia ad altre persone della mia famiglia però io volevo un numero tutto mio che non avesse precedenti nel mio albero genealogico e quindi ho scelto un'altra serie di numeri e come posso spiegarlo ho associato comunque al fatto che quando vedo questa serie di numeri in qualche maniera io sto ricevendo l'incoraggiamento in una situazione difficile o comunque sono sostenuta in quello che sto facendo i primi giorni è continuato ad apparire il 22 il 222 il 2222 da tutte le parti quasi come che non volesse abbandonarmi questo numero poi si è arreso e adesso sono passata a una nuova sequenza mia personale ieri per esempio era una giornata molto particolare esco dall'ufficio c'era un'atmosfera bellissima ero di fronte a una chiesa suggestiva ed è passata una macchina super potente che a me piaceva molto è una mercedes non so dirvi di più perché sono una frana con le targhe della macchina scusatemi con le targhe con le case automobilistiche con i modelli però era una macchina bellissima bellissima ed aveva sulla targa esattamente il mio nuovo numero e allora ho detto grazie universo per l'incoraggiamento allora poesia estiva dice mia madre nei sogni riceve annunci di nascite e anche di morte purtroppo ma pensate ma pensi c'è chi ha c'è chi ha il dono di questa cosa e quindi immagino che sia qualcosa che avete verificato cioè non è una semplice paura o proiezione è proprio la percezione di quello che sta accadere poesia può essere che tua mamma sia in contatto con l'anima di queste persone perché l'anima lo sa quando è il suo momento di ritirarsi e una persona che è in contatto con l'anima di un'altra persona riesce anche a intuire o in qualche maniera a sognare in questo caso a ricevere l'informazione di quello che l'anima dell'altra persona ha già ricevuto sì verificato conferma la poesia esatto allora Ilaria scrive allora le donne della mia famiglia nonna madre zia quindi in linea materna nei sogni compaiono scene persone in vita o defunte che trasmettono messaggi cioè ragazzi quante quante di queste cose accadono ma non sono in realtà non sono cose speciali quando parli anche con gente razionale chiusa all'invisibile poi scopri che almeno una volta nella loro vita ha avuto esperienze di questo tipo oppure conosce persone cioè la nostra società prettamente materialistica io non so come abbia veramente sia riuscita ad imporre determinati valori perché poi è pieno di gente che ha diverse sensibilità e sensitività ma veramente pieno allora poesia aggiunge allora per le nascite sogna dei parenti defunti ad esempio il padre che le dà in braccio un bambino oddio i brividi o una bambina e subito dopo si scopre che uno di noi aspetta ad esempio allora io ho fatto un sogno sulla nascita di mia nipote prima ancora che mi venisse detto che era nel pancino io allora ho sognato che c'era questo esserino dentro un cesto che tenevo all'altezza della pancia come se fosse una pancia che per esempio io lo passavo questo cesto con questo esserino a mio fratello e a sua moglie e gli dicevo voi avete il compito di portarlo in terra ho sintetizzato il sogno in questa maniera quando mi sono svegliata io ho pensato sta arrivando sta arrivando un nuovo bebè sta arrivando un nuovo bebè e così è stato dopo dieci giorni o due settimane circa mi hanno dato una notizia bellissima bellissima e questi sono tutti esempi di chiaroveggenza adesso vediamo un attimo come funziona invece la chiarosenzienza chiarezza nel sentire nel mio libro scrivo è il canale intuitivo di chi comunica primariamente attraverso le emozioni e le sensazioni quindi emozioni e sensazioni le sensazioni viscerali chiaramente no magari quelle di pancia allora queste persone sono in genere provviste di doti empatiche e avvertono più facilmente degli altri il dolore altrui per esempio sono sensibili quando entrano in un ambiente sentono subito che tipo di energia c'è non so se vi capita che entrate in un ambiente sentite che c'è anche se nessuno vi dice delle cose sentite che c'è dell'attenzione e sapete intuitivamente che magari prima c'è stata un'attenzione un litigio dentro quella stanza questa è una caratteristica tipica della chiaro sensienza allora queste persone devono chiaramente anche tutelarsi perché prendono molto facilmente le vibrazioni dell'ambiente e passare tutta una giornata a contatto con ambienti stressanti o con energie pesanti le può veramente depauperare della loro della loro energia della loro forza vediamo un po' nella chiaro sensienza sì le percezioni fisiche si possono avere percezioni del fisico e tipo del tipo come essere sfiorati da qualcosa non so se vi è mai capitato la sensazione che vi passi qualcuno accanto a me è capitato anche questo diverse volte non è una predominanza nelle mie sensazioni però so perfettamente di cosa si parla dicevo qualcuno che ti passa accanto oppure anche un cambio di temperatura che non è giustificato perché magari siete fuori fa molto freddo e di colpo venite come avvolti da un abbraccio di calore oppure da una brezza fresca in un altro contesto e così via questa è sempre una caratteristica che magari ci può indicare la presenza di energie e la recepiamo in una maniera intuitiva che però è tattile è legata quindi a una sensazione fisica oppure emotiva perché spesso sentiamo proprio muoverci le emozioni in maniera molto forte interiormente allora altri commenti Ilaria ok confermo non so a cosa ti riferivi Ilaria comunque pensa a tutto quello detto fino adesso e appunto e ok anche al commento relativo al tuo commento Antonella ciao Antonella verissimo Ilaria una corrente d'aria si appunto si si brezza corrente d'aria sono sensazioni tipiche di questo canale intuitivo Antonella si mi è capitato ti riferisci alle immagino alle ultime cose dette quindi comunque al canale della chiaro sensienza se vuoi specificare meglio cosa cosa ti è capitato comunque come vedete sono esperienze ma davvero tanti di noi ne hanno solo cosa succede che molte volte come spiegavo prima la mente monta sopra con dei ragionamenti che sminuisce no è facile pensare che magari ci siamo inventati che stiamo proiettando che chissà quale tumulto psicologico abbiamo e invece magari era qualcuno qualcosa che ci ha raggiunto che ci ha raggiunto in una modalità diversa dal solito tipico della chiaro sensienza è anche sentire odori o profumi senza che vi sia una fonte a giustificare questo non so se lo sapete ma spesso nei luoghi di apparizione dei santi si sente il profumo dei fiori anche se non vi è traccia di fiori allora vediamo se posso fare così o perfetto così alterno alterno posso vedere i commenti la chiaro sensienza quindi allora io personalmente non ritengo che sia un canale primario però per quanto riguarda il percepire le vibrazioni di un ambiente lì invece sono sensibilissima sono sensibilissima ho proprio bisogno a volte di andare a casa o andare in un parco comunque un ambiente che sia energeticamente in armonia per ricaricarmi cioè proprio diventa un'esigenza quasi come respirare l'aria se no comincia a cambiarmi anche il carattere la percezione perdo anche la stessa lo stesso buonsenso stare in un ambiente teso io soffro soffro tantissimo sono come una spugna quindi non credo che potrei fare la terapeuta non perlomeno nel senso classico di lavoro a contatto diretto con le energie fisiche perché un terapeuta deve avere la capacità di pulirsi e di staccarsi dalle energie dell'ambiente io l'ambiente lo sento tantissimo lo sento tantissimo e non riesco a proteggermi cioè la mia protezione è mettermi in un angolo di un ambiente oppure creare comunque chiamiamola così una bolla di energia che mi ricarica la metropolitana di Milano per esempio è un ambiente pesante per me ci sono energie pesanti quindi ogni volta bisogna fare un po' di pulizia ci sono altri commenti su eventuali sensazioni percezioni esperienze che avete avuto sulla chiarosenzienza questo è il momento per lasciarli Antonella bene adesso mi spiega cosa intendeva allora dice a sentire passare qualche presenza come no in particolare sentire seduto accanto a me mentre ero sdraiata che insomma può sembrare inquietante è capitato anche a me proprio il materasso che si era abbassato come se ci fosse una pressione è capitato anche a me all'epoca poi avevo il gatto una volta ero veramente convinta che si era come dire appollaiato il gatto in un lato del letto poi alzo gli occhi era penombra intravedo che il gatto invece è da tutt'altra parte nella stanza e quindi capisco che quello che stavo percependo non era non era il gatto ma era qualcos'altro poi Antonella se ti capitano spesso queste cose può darsi che questo sia il tuo canale principale o comunque favorito per cogliere come dire per cogliere ciò che è nell'invisibile o in un'altra realtà magari magari spesso magari vabbè dai diciamolo i nostri avi anche ci vengono a trovare ci fanno sentire la loro presenza la loro ispirazione attraverso diversi modi secondo me per esempio nel mio caso era attraverso i numeri che si ripetono come dicevo prima e in casi come quello di Antonella può essere proprio la sensazione di avere una vicinanza fisica di qualcuno dai passiamo che ore sono c'è tempo dai un'oretta mancano 20 minuti altri due canali passiamo alla chiaro conoscenza questo è il mio canale preferito sembra che non sia molto diffuso però è il mio canale preferito allora chiaro la conoscenza che è la chiarezza nel pensare chiarezza nei pensieri cioè la conoscenza attraverso i pensieri allora colui che ha favorito questo canale riceve la conoscenza le informazioni in una maniera immediata proprio prendono forma in modo istantaneo nel suo pensiero può essere per esempio il caso in cui vi fate una domanda e un secondo dopo intuite la risposta cioè un secondo prima non avreste saputo cosa rispondere cosa pensare magari state pure per per chiedere a qualcun altro per cercare le informazioni e di colpo avete chiara la risposta cioè l'informazione arriva come conoscenza diretta questa è una forma di chiaro conoscenza ecco qui quando si interroga la persona riceve suggerimenti intuitivi sul da farsi che poi si rivelano corretti è il mio canale preferito perché io ho questa facoltà cerco di usarla e la sto allenando sempre di più e si può mettere in moto davvero nelle piccole azioni quotidiane io ho scoperto che queste intuizioni ma penso che valga per tutti noi in realtà noi di base le abbiamo le abbiamo sempre avute fin da piccoli cioè il vero problema è la mente razionale che monta sopra e pian piano ci fa allontanare dal nostro sentire io ho passato tutta una vita a non ascoltare le mie intuizioni per poi scoprire che le mie intuizioni avevano ragione cioè a forza di dire ah però lo sapevo ah però me lo sentivo ma allora se lo sapevo se me lo sentivo perché non mi sono ascoltata per due motivazioni di solito perché con la mente razionale partono sopra le risposte intellettuali le credenze con cui ci hanno cresciuto e poi magari perché siamo sensibili al pensiero e all'opinione degli altri c'è un video che ho messo su TikTok che è piaciuto molto e se non sbaglio dicevo proprio una frase del tipo che quando hai una intuizione come dire un sentire di qualcosa che dovresti o potresti fare quando hai una illuminazione non rovinare tutto chiedendo il parere degli altri ed è proprio così allora Ilaria non solo ma mi arrivano anche le risposte giuste e risolutive sì sì arriva quindi arriva arriva l'intuizione di quella cosa da fare da dire da mettere in moto di quella porta da aprire e poi tu scopri che era la migliore cosa possibile proprio quella giusta da fare funziona proprio così cioè è pazzesca questa cosa non si può spiegare razionalmente però quando cominci ad allenarti quando senti il sapore che hai perché io non so nel vostro caso nel caso spiegatemi nel mio caso è una sensazione sottilissima proprio sottile quindi negli anni ho imparato ad afferrarla con un niente la puoi mandare via con il primo ragionamento del cavolo tu la metti completamente a tacere perché queste queste questi suggerimenti intuitivi che poi arrivano dalla nostra parte più profonda dal nostro maestro interiore non si vogliono imporre cioè loro ci mandano il seme poi se noi se lo vogliamo lo raccogliamo se no cavoli nostri allora evangelina ciao evangelina bravissima grazie ilaria succede da quando ho imparato a spegnere tra virgolette la mente razionale e giudicante e poi aggiunge sempre ilaria con poca fatica un automatismo animico sì poi ilaria credo che sia anche tua esperienza cioè all'inizio sembra difficile poi man mano che lo fai diventa proprio un automatismo animico io personalmente quando ho un'intuizione di qualcosa cerco di farci la massima attenzione cioè mi si attiva la come posso dire un senso di allerta positiva un accorgersi spesso poi e questo riguarda anche la vita quotidiana cioè prendere non so l'autobus piuttosto che il metro di colpo ho la sensazione di cambiare strada e poi vengo a sapere che la strada che avrei fatto di solito magari era intasata o c'è stato un incidente sul lavoro ho tante cose non riesco a capire qual è quella urgente ho l'intuizione di fare qualcosa e poi capisco che se non l'avessi fatta sarebbe diventato urgente cioè vengo aiutata proprio nella nella mia vita quotidiana io ho questo tipo di intuizione l'ho messa in atto anche per aiutarmi a curarmi e a seguire lo stile di vita migliore per affrontare la fibromialgia e altre patologie che mi hanno veramente fatto soffrire molto in passato quindi ho un'intuizione anche di carattere medico nel senso salutistico che applico ovviamente solo esclusivamente su di me e poi quando vivevo con gli animali anche sugli animali allora evangelina lì incontriamo nei sogni evangelina scusami a cosa ti riferisci agli avi alle persone ai suggerimenti non so quando tu sei arrivata prima abbiamo anche parlato dei sogni però spiegami meglio a cosa ti riferisci che sono che sono curiosa perché assolutamente sì i sogni sono un canale pazzesco per ricevere informazioni nei sogni si incrociano diversi livelli perché c'è un livello psicologico di semplice rielaborazione della psiche cioè quindi nei sogni convergono anche paure sensazioni o conoscenze come dire cose che abbiamo già realizzato nel profondo ma che ancora dobbiamo elaborare razionalmente ma il sogno già comincia a tirarcelo fuori a elaborarlo nel sogno arrivano anche i contatti con gli avi defunti o eventualmente con altri esseri e altre energie e nei sogni arrivano anche come dicevamo prima le visioni di quello che potrebbe accadere o che è accaduto in un lontano passato a volte visioni anche di altre vite e arrivano soprattutto i suggerimenti del nostro maestro interiore poi i sogni è un altro ambito che io che io amo adoro dovrei approfondirlo so che sono portata ma ho tante cose da studiare approfondire sono portata nell'interpretare i sogni degli amici nel cogliere intuitivamente la valenza simbolica che c'è dietro e spesso nei sogni io davvero ho vissuto di tutto di tutto ho quasi la sensazione che vivo più nei sogni che in questa realtà quando dormo vado a trovare un sacco di mondi e si imparano un sacco di cose evangelina idem e allora stavamo sulla chiaro conoscenza quindi quando uno si interroga riceve suggerimenti intuitivi sul da farsi eccetera poi chi è dotato di chiaro conoscenza o comunque ha predisposizione per questo canale si accorge istintivamente se una persona è sincera o meno a me capita proprio e ovviamente me ne sto zitta non dico nulla io sento proprio subito se una persona se la sta raccontando e se sta parlando mossa da illusione paura anche manipolazione perché a volte si parla in un certo modo per impressionare qualcun altro su delle cose e nasconderne delle altre non è un qualcosa di deduttivo perché forse in maniera deduttiva onestamente non ci arriverei perché non è che sono sempre così sveglia ma a livello intuitivo so esattamente cosa sta accadendo e quello che mi fa arrabbiare è che questa intuizione io ce l'avevo fin da bambina ma l'ho ascoltata a zero cioè avevo davanti una persona che diceva magari belle parole purtroppo poi quando sono persone vicino familiari amici conoscenti amici di familiari uno tende a fidarsi quindi io ho davanti magari una persona che mi prospetta tutto un bel quadro di situazioni di cambio di vita dentro dentro subito istantaneamente la sensazione che sta dicendo una marea di boiate e cosa ho fatto io per una vita ascolto le parole esterne ho ascoltato perché così magari mi dicevano ah che brava ok perché vedevi che tutti gli altri si facevano confondere da queste belle parole esterne e mettevo il mio sentire da parte e se l'ho pagata questa cosa non so se anche voi potete testimoniare qualcosa del genere allora leggo ilaria sono a contatto con bambini ragazzi le nuove generazioni trasmettono inconsapevolmente messaggi esoterici si mi è capitato ci ho fatto caso sono pazzeschi sono pazzeschi ci faccio sempre più caso anch'io ma proprio ragazzi giovanissimi io non sono a contatto cioè nel senso mio un contatto sporadico per come capita nella vita per per le persone giovanissime giovanissime che incontro se ne escono a volte con delle frasi che sembra magari il riassunto di tutto quella scienza esoterica quel ramo che io ho studiato che riassumerei in quella maniera e loro se ne escono come se nulla fosse sparandoti questa questa saggezza questa verità che evidentemente di cui loro evidentemente sono portatori già come anima già a livello profondo Antonella ecco qua infatti Antonella dice Ilaria dice una grande verità ho due nipotini e ho notato proprio questo allora se per caso qualcuno di voi è depresso preoccupato per come sta andando il mondo eccetera se si fa prendere da quella famosa paura di cui abbiamo parlato in apertura di questo video di questa diretta pensi che se il destino del pianeta fosse un destino oscuro non ci sarebbero tante anime giovani così aperte così illuminate perché perché le anime soprattutto le anime evolute lo sanno quando è il momento di una rinascita e quindi arrivano a massa arrivano a massa veramente si incarnano numerose per partecipare e per aiutare questa crescita questa evoluzione ci sono stati ci sono dei periodi oscuri abbiamo attraversato nella nostra storia diversi periodi oscuri e vi assicuro che in quel caso c'è meno partecipazione cioè si aspetta sempre che ci sia il momento giusto perché comunque le anime soprattutto quelle evolute vengono per partecipare nella gioia e nella luce e quindi ne stanno veramente arrivando tantissime tantissime con delle conoscenze già acquisite quasi in maniera quasi praticamente in maniera innata evangelina i defunti scrivimi meglio la domanda o esplicita meglio il tuo pensiero perché non magari ti riferisci a una frase in particolare che stavamo dicendo che però nel frattempo è passata poi evangelina anche scrive la melatonina apre ulteriormente il canale ci sono sembra che sembra che aiuti che la melatonina sia molto connessa tu dici questo tipo di canale allora e cioè tu parli dei canali in generale o della chiaroconoscenza sicuramente la melatonina è un'espressione fisiologica di una capacità più interiore sappiamo che l'esterno influenza l'interno e viceversa quindi problemi di melatonina possono essere anche connessi a problemi di mettiamola così capacità intuitive questo questo lo so però so anche che quando i canali si aprono pienamente mettiamola così anche la fisiologia in qualche maniera risponde in maniera adeguata allora Antonella bellissima considerazione questa delle anime evolute che si incarnano proprio ora grazie lettura interessante io questa cosa la sento da la sento da sempre e tra l'altro non è una mia idea originale è stato detto da molte persone sensitive da molte persone che vedono che sentono e vedono molto più della sottoscritta però oggettivamente io ho lavorato circa dieci anni fa in un supermercato in un supermercato ed è stata un'esperienza pazzesca perché vedevo tutti questi adulti che passavano ed era come se avessero lo sguardo velato erano avevano tutti lo sguardo velato mentre i bambini avevano lo sguardo disvelato ed erano totalmente svegli magari la mamma diceva qualcosa sentivo il bambino commentare con una saggezza con una originalità che tu dici questo l'hanno adottato però no non l'hanno adottato perché assomiglia fisicamente ai genitori quindi è figlio loro ma tanti tanti episodi di questo tipo io dieci anni fa essendo tre mesi dalla mattina alla sera in un supermercato facevo promoter di qualcosa e mi sono accorta di questa cosa cioè di questa energia bimbi anche piccolissimi come anche bambini più grandi fino ai ragazzini con questa energia meravigliosa nuova quindi avevo questo ammasso di persone che insomma l'energia nei supermercati a volte è un po' più bassa si parlava prima dell'energia dei luoghi quindi c'era questo ammasso diciamo di nebbia scura di persone di cose oggetti e questi bimbi che mi sembravano stelle stelle in mezzo al buio che brillavano di una luce loro di una luce innata e dicevo vedi guarda che anime che si stanno incarnando ma tanti 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 ilaria spesso si tratta dei bambini con più problemi di apprendimento didattico apprendimento didattico allora è vero che si tratta di bambini più sensibili essendo più sensibili non se vivono una realtà dove prevalgono valori disfunzionali inevitabilmente manifestano a loro volta delle problematiche ma non perché loro abbiano oggettivamente delle problematiche ma perché è la realtà indietro rispetto a quello che loro sono molte volte è per questo poi altrettanto spesso i bambini fanno da specchio e da riflesso ai propri genitori quindi ti sbattono in faccia le tue stesse difficoltà o l'illusione che il genitore ha nei confronti della vita di come vede la vita quindi il bambino gli mette di fronte delle problematiche che costringono il genitore a cambiare quindi c'è anche questa situazione qui sui bambini c'è veramente tanto da dire è verissimo che molti bambini problematici sono stati bambini sono stati nel senso perché pensavo oggi agli adulti ma attualmente anche gli attuali bambini problematici sono bambini che sono avanti in realtà sono avanti e quando uno è sano e quando uno è avanti e lo metti dentro un ambiente limitato e disfunzionale non può che manifestare squilibrio cioè i non sani stanno bene in una realtà non sana sì i bambini indaco cristallo arcobaleno evangelina sì sì i bambini indaco secondo me sono quelli più problematici però non ho una conoscenza completa o totale di tutte le varie sfumature e tipologie dei bambini per cui insomma ho accennato e mi fermo qui chiaro conoscenza finiamo di leggere la parte sulla chiaro conoscenza allora si diceva quindi intuizione attraverso i pensieri una forma di anche conoscenza diretta questo è proprio tipico di chi ha questo canale cioè spesso sai come andrà a finire una situazione perché scorgi lo sviluppo immediato questa cosa è una condanna è una condanna perché se tu la manifesti ti dicono ah ma tu porti sfiga io infatti ho smesso di dirlo io mi sono veramente scocciata di sentirmi dire che porto sfiga perché magari una persona ma anche sul lavoro e in altre situazioni decide di mettere in atto una situazione io dico perché ho l'intuizione che mi sta parlando guarda potrebbe capitare questo se fai quello se fai questo ti capita quest'altra cosa ah ma tu porti sfiga oppure comunque la fanno appunto accade e cominciano a dirmi ah però tu porti sfiga io adesso non dico più niente cerco di usare questa intuizione per i fatti miei magari proprio alla lontana se sento che qualcuno è predisposto ad ascoltare provo a buttare un seme perché poi comunque sono intuizioni non sono certezze non sono certezze qui non ci si muove sulla base di certezze ci si muove in alleanza con il maestro interiore e come dicevamo anche prima il maestro interiore non ha piacere che tu continui a ricadere sempre negli stessi errori quindi cerca di suggerirti di farti intuire che se rifai di nuovo quella strada e di nuovo ti ritrovi con quel problema Ilaria dice sperimentato anche con i miei figli si è riferito a tutto il discorso sui bambini bello bello quindi qua abbiamo figli nipoti amici parenti di vari gradi figli di amici che con cui abbiamo l'esperienza diretta di quello che abbiamo detto cioè è sotto i nostri occhi è sotto i nostri occhi non facciamoci condizionare dalle vibrazioni e dalle notizie negative dei notiziari perché c'è tutta una flotta di anime che sta crescendo ed è venuta ad alzare la frequenza di questo pianeta e quindi e quindi alle cioè diventiamo alleati no? di questi nuovi bambini uniamoci a loro in questa azione di alzamento delle frequenze Ilaria dice mi fa ridere e porti sfiga sì guarda fa ridere anche me perché poi mi rendo conto che anche ho talmente avuto problemi in passato talmente non ho ascoltato la mia voce interiore che un po' è diventata una sorta di allarme cioè davvero mi si attiva come una sirena però attenzione non è paura non è allarme è proprio una mia una mia capacità ma mi si attiva questa sirena perché talmente non l'ho ascoltata per tante volte tu quando non ascolti le tue intuizioni a un certo punto si fanno più forti le situazioni si fanno più intense perché da lassù dicono questa prima o poi imparerà ad ascoltare e alla fine poi questo rumore di questa sirena lo sento finalmente riesco a sentirlo perché insomma l'hanno alzato di volume ed è bello vivere così perché non devi con cioè tu fluisci nelle situazioni della vita e sai che tutto quello che devi fare è restare a contatto con le tue sensazioni perché se qualcosa di disfunzionale o anche di pericoloso perché no capita sul tuo cammino la tua voce interiore lo sa te lo dice quindi quello che noi dobbiamo fare non è avere paura ma è preoccuparci di stare di restare a contatto con la nostra voce interiore se proprio voglio proteggermi questo è il modo migliore di proteggere di procedere e di proteggersi chiaramente allora capacità anche del chiaro conoscente ecco qua è pensare a una persona poco prima che questa lo chiami per esempio al telefono io credo che anche questo sia capitato spesso a noi pensare a qualcuno che magari non sentiamo da mesi o da anni e di colpo ci arriva un tratto ci arriva un messaggio ehi là quanto tempo che non ci si sente come stai e lo stavamo pensando qualche minuto prima oppure a me capita le persone con cui sono molto legata io sento che mi stanno pensando e dopo circa 30 secondi ricevo un messaggio o la chiamata ormai non ci faccio proprio più caso allora il chiaro conoscente ha buoni dote interpretative dei sogni anche perché l'interpreta collegandosi a una conoscenza superiore poi anche è capace di dire le parole giuste alle persone che hanno bisogno di riceverle chi è dotato di chiaro conoscenza e spesso riesce a dire proprio la cosa giusta la frase che serve a quella persona come altrettanto spesso succede che magari chiedi consiglio o ti confidi con qualcuno questo se ne esce con tutta una serie di osservazioni e di commenti e un secondo dopo tu ti dici ma perché mai ho aperto bocca perché certi commenti ti fanno pentire ovviamente di esserti confidato ma il chiaro conoscente invece sa ascoltarti e sa dirti quello che a te serve ascoltare allora Ilaria anche dopo la recitazione di un mantra si sbloccano situazioni ti riferisci allo sbloccare energeticamente delle situazioni sì 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 mantra mantra a manetta io personalmente anche ho oponopono a manetta non so se avete presente magari una diretta sul mantra di ho oponopono mi dispiace ti prego perdonami grazie ti amo potremmo farla perché soprattutto in questo periodo con quello che sta apparentemente accadendo a livello anche collettivo c'è tanto bisogno di ho oponizzare tutti i mantra benvengano io ho anche un mantra che proprio adoro Om Namah Shivaya che è il mio mantra preferito però questo è un mantra che va a rompere gli schemi cristallizzati e anche faccio preghiere e invocazioni preghiere e invocazioni non per cambiare ma per amare e portare luce perché quando facciamo queste cose con l'intento di voler cambiare la realtà perché non l'accettiamo secondo me non è il movente giusto quando invece usiamo questi mantra queste energie con l'intento di portare luce di portare luce affidando a un'intelligenza più grande poi cosa questo significa e allora e allora forse qualcosa di interessante si mette in moto allora Ilaria dice telefonate che arrivano si sbloccano situazioni telefonate che arrivano anche quando noi prendiamo coraggio magari esitavamo facciamo una scelta importante nel momento in cui facciamo quella scelta perché noi mandiamo un segnale energetico per esempio anche lì si sbloccano situazioni e cominciano ad arrivare telefonate Antonella dice non conosco quindi mi farebbe piacere saperne di più su O o Pono Pono diciamo che non è nulla di nuovo è una versione hawaiana è una versione hawaiana dell'abbracciare le nostre ombre quindi di trasformare le memorie che poi danno vita alla realtà esterna ne riparleremo me lo segno me lo segno e ne riparlerò potrebbe essere anche il proprio prossimo sabato magari ce la caviamo in una mezz'oretta però poi con le domande con gli approfondimenti il tempo il tempo scorre Ilaria infatti poi puntualizza giustamente usare il mantra con senso di fluire sì con senso di fluire perché per carità sempre con una buona intenzione però a volte ci si avvicina ai mantra al mondo delle energie invisibili con un intento di controllo e allora dobbiamo trasformare questo intento e passare dal controllo al fluire allora sulla chiaroconoscenza perché abbiamo ancora un altro canale da dire vediamo un po' e questo l'avevamo detto allora anche questa cosa qua del chiaroconoscente deve stare attento a non sembrare un saccente poiché per lui è normale attingere alle informazioni da molteplici campi della conoscenza il chiaroconoscente è un po' quello che sa un po' di tutto molte volte quindi passa per un secchione rompiballe però siccome gli altri non funzionano in questa maniera entrano in diffidenza e quindi in questo caso allora meglio restare magari nel silenzio e valutare di parlare solo quando effettivamente si sa che si viene ascoltati o è opportuno farlo se no è uno spreco di fiato è uno spreco di fiato e giustamente non tutti hanno voglia e intenzione di ascoltarci allora dai passiamo all'ultimo canale intuitivo che è la chiaro udienza ossia chiarezza nell'udire colui che è dotato di chiara udienza riceve indicazioni informazioni di vario tipo soprattutto attraverso l'udito per esempio può avvertire come scrivo nel mio libro voci canti musiche risate o pianti in lontananza senza spiegazioni apparenti senza una spiegazione apparente ci sono persone che hanno testimoniato di aver sentito magari piangere un bambino in una casa abbandonata tutte le notti che sono state in questa casa e in quel caso stanno stanno come dire sentendo la presenza non di un bambino fisico questa è una forma di chiara udienza come anche ridere voci poi non so se dirlo può essere collegato la chiara udienza forse si è stato un fenomeno di chiara udienza tanti anni fa ho avuto uno dei miei gatti ha avuto un problema è stato messo sotto da un'auto però vivevo in campagna aperta non lo vedevo tornare da giorni e a volte i gatti fanno così spariscono per giorni poi tornano però a un certo punto ho cominciato a preoccuparmi e ho detto mi devo mettere a cercare mi devo mettere a cercare il micio ma come faccio a trovarlo perché tu magari abiti in aperta campagna e puoi muoverti a 365 gradi in tutte le direzioni allora io dico vabbè io vado io vado e in qualche maniera farò a un certo punto sento miagolare dentro la mia testa e il miagolio mi dava una direzione ma veramente chilometri chilometri prima da dove poi effettivamente ho trovato il gatto e quello secondo me è stato proprio un classico esempio di chiaro udienza mi sono collegata in qualche maniera al micio e abbiamo avuto una comunicazione sonora e allora evangelina parla di telepatia sì è anche anche nel mio esempio questo anche è una forma di telepatia con un gatto cioè è stato pazzesco allora quindi allora il chiaro udiente si sente o si è sentito almeno una volta chiamare per nome ma non vi è mai capitato alle 4 o alle 5 di notte sentire qualcuno che vi chiama per nome secondo me a qualcuno è capitato a me è capitato a me è capitato Camilla fai oddio Camilla anzi così Camilla adesso è un po' che non mi capita perché adesso li frego cioè io mi alzo prestissimo se no prima quando non avevo la sveglia alle 5 comunque la sveglia ce l'avevo perché la voce mi chiamava Camilla del tipo a sì e poi niente ti senti chiamare per nome io poi ho capito che era un invito ad alzarmi alle 5 perché poi alle 5 è un orario straordinario per fare tutta una serie di pratiche meditative e se non lo faccio tornano a chiamarmi per nome allora tra l'altro il canale della chiarudienza questo mi è capitato di rado ma mi è capitato quindi l'ho sperimentato allora colui che è chiarudiente può ricevere risposte alle sue domande attraverso frasi casuali frasi casuali sentite magari alla radio alla tv su youtube stai cercando una risposta oppure hai un dilemma o un problema e ascolti esattamente quella frase che ti dà l'intuizione ti dà la risposta ti dà la direzione da seguire chi è chiarudiente si trova a sperimentare situazioni di questo tipo e allora adesso poi mi chiedo prima parlavamo della sequenza numerica tipica della chiaroveggenza vedere sempre una sequenza numerica a un certo punto io per esempio la sento sonora la sento sonora cioè ci sono c'era l'altra sera ma più volte magari il tizio che risponde al telefono su una serie e quello gli dice raggiungimi nella stanza e dà la sequenza numerica che mi riguarda oppure a un certo punto due tizi che si mettono a litigare su tre numeri e sono esattamente quelli della mia sequenza numerica quindi nel mio caso la sequenza numerica arriva anche anche per voce per voce quindi torniamo alla tatam tatam ho perso il segno allora chiara udienza che è l'ultimo dei nostri dei nostri canali allora intanto leggo anche dei commenti allora Ilaria richiamo del mio nome dalla radio e dalla tv anche per consolazione sì 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 senti pronunciare il tuo nome e poi magari seguo una frase che ti riguarda una frase che ti accende dentro qualcosa no? che ti attiva ti attiva un pensiero una riflessione una consolazione ed è esattamente così funziona esattamente così allora il chiaro udiente può sentire ronzi metallici dentro l'orecchio o strani rumori magari quando è solo o si sta per addormentare a me questo è capitato finché a un certo punto ho detto per favore abbassate il volume perché devo dormire e poi è andata meglio tipico anche della chiaro udienza è avere la percezione di essere guidati durante le conversazioni quindi di ripetere le frasi che in realtà vengono suggerite questo cioè vengono suggerite a livello intuitivo qua siamo al confine anche con la chiaro conoscenza perché il chiaro conoscente parla per intuizione del concetto da dire il chiaro udiente forse parla per intuizione della frase da ripetere magari la sente più su un piano uditivo però il confine è molto è molto sottile comunque dialogare mentalmente con se stessi anche tipico del chiaro udiente come anche avere una connessione con gli animali e con le piante con i quali appunto parla perché il chiaro udiente fa uso delle voci delle parole delle frasi probabilmente ha anche un tono di voce gradevole io sono un po' più più pungente sono un po' più pungente nel parlare ho delle amiche che hanno dei toni meravigliosi morbidissimi quando parlano effettivamente parlano a tutti gli animali a tutte le piante che hanno in casa quindi probabilmente lì c'è di mezzo la chiaro udienza e poi è anche molto sensibile alla musica allora abbiamo fatto questa breve ma intensa panoramica sui canali intuitivi e probabilmente vi sarete accorti che spesso ne abbiamo più di uno non c'è un canale intuitivo esclusivo ma ci arrivano informazioni segni suggerimenti attraverso uno o più di queste modalità che abbiamo visto allora leggo sempre qui dal mio libro secondo quanto riportato da Doreen Virtue nel suo libro Terapia Angelica tra l'altro questa suddivisione dei vari canali intuitivi l'ho presa anch'io da questo libro per la maggior parte perché poi si trovano diverse diverse diciamo altre diverse suddivisioni sui blog su altri libri questa mi sembrava la più la più coerente dicevo che secondo Doreen Virtue la maggior parte delle persone comunica con il mondo sottile oppure avverte la presenza di entità spirituali angeliche o riceve messaggi di supporto di consolazione attraverso il canale della chiaro sensienza cioè lei diceva la chiaro sensienza se non sbaglio cioè guidati dalle sensazioni emotive e fisiche per esempio spesso succede che magari siamo giù emotivamente e chiediamo dentro di noi un aiuto oppure possiamo fare una preghiera rivolta alle anime che ci sono vicino e sentire sentire un sollievo emotivo immediato sentire come se qualcuno ci sta proprio consolando sul piano emotivo quella anche è una forma di chiaro sensienza quindi la chiaro sensienza le emozioni emotive come anche le sensazioni fisiche per Doreen Virtue è il canale più diffuso il secondo canale più diffuso è anche quello della chiaroveggenza infatti molte persone sono visive devo dire questa cosa la riconosco anch'io gli altri due canali che fanno uso di pensieri e parole quindi abbiamo detto chiaro conoscenza e per ultimo chiaro udienza per ultimo in ordine non per ultimo di importanza sono invece più rari non so voi in cosa vi siete riconosciuti fate una riflessione allora Angelo ciao Angelo ben arrivato comunque ci sono persone che si sentono di appartenere in maniera predominante a un canale e non hanno dubbi altre come la sottoscritta che ha avuto molti dubbi per molto tempo perché effettivamente a secondo dei contesti o dei momenti di vita era in azione un canale piuttosto che un altro però quello che noi adesso abbiamo visto è uno schema è uno schema che serve solo a parlare di queste cose gli schemi non servono a inscatolare le persone servono solo a parlare a dare un punto di riferimento dal punto di vista del dialogo e quindi come tale va considerato cioè è assolutamente normale che magari davvero noi apparteniamo a uno o più di questi canali come modalità intuitiva tuttavia c'è sempre un canale predominante quindi anche se avete uno o due almeno canali predominanti quelli dove proprio tra virgolette siete più bravi quelli dove potreste manifestare il vostro talento intuitivo e poi voi se vi osservate poi vi conoscete lo sapete qual è quindi anche se avete la sensazione di di avere un po' di tutto magari in maniera confusa o generica cominciate a portare attenzione a quelle manifestazioni intuitive che più di altre caratterizzano la vostra vita e soprattutto la vostra quotidianità perché il canale predominante spesso si manifesta in maniera quotidiana ragazzi 7 e 20 niente io devo sforare sempre l'ora è più forte di me per stasera è tutto per la prossima volta o magari per la volta ancora successiva perché stavo valutando anche tra gli argomenti di affrontare sicuramente la legge dello specchio forse la prossima volta no oddio potrei fare legge dello specchio e o oponopono come dicevamo prima insieme vi farò sapere pubblicherò l'evento sulla pagina però sicuramente questi argomenti che ho citato verranno affrontati in una delle prossime dirette io vi saluto vi do qualche istante se avete voglia di scrivere qualche altro commento quindi chiudiamo con qualche secondo con la nostra musichetta se non apro pagine a caso magari riesco anche a farla partire mentre vi saluto e vi auguro una buonissima serata grazie grazie per avermi fatto compagnia grazie per tutti i commenti grazie per la vostra presenza mi raccomando alta la frequenza manteniamo alta la nostra vibrazione in questo senso ciao grazie mille baci buona serata grazie ciao a tutti ciao